musica 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 hola a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui ritornati sulla serie di minecraft che devo ancora decidere che nome mettergli che sono 5 minuti che abbiamo finito di registrare la scena esatto voi avete visto tre giorni di differenza un gioco su un gioco no dei video per noi siamo sempre a questo giorno siamo sempre in compagnia con easy e lycos ciao al posto ragazzi oggi si va in miniera quindi non so aspetta eh no per andare in miniera dovremmo andare in quell'altra quella da esplorare non questa che dobbiamo fare allora questa no andiamo a tirare allora arrivo arrivo dove è easy mi sto facendo un po' di piccone intanto ragazzi questa è la nostra casetta minuscola però è bella giornata è bella eh chest ovunque facciamo un attimo così facciamo dove sono ecco stick ci facciamo una spalla di cobblestone sono effettivamente molto scomodo le casting table messe così eh comunque si ma vorrei sapere chi le ha messe le scusate non ci fate caso nuova cemento fatto gg raga è notte ... mando più in caverna ti sto aspettando sono quella qua qua vicino a casa eccchè il bello è che per gli achievement vórai anche una crafting table l'hai ancora fatta no di fatto io non hai già fatto.. ok torcia yes ci sei? sì sì sto arrivando Bene, 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 bene. Occhio. Oh, carbone, carbone, carbone. Io guardo un po' di qua, vediamo cosa c'è di qua. Piazza torce, che così sappiamo dove capisci. Se ho le torce magari le piazzo anch'io. Eh, vieni qui che te ne do qualcuna. Sono qui. Vieni. Grazie. Uh, ferro, ferro, ferro. Prendilo, prendilo, prendilo. Così ci facciamo la zappa di ferro. Eh, utilissimo. No, bisogna fare la zappa di diamante. Sì, sì, quella è la prima cosa che faremo. Ok, saltiamo. Che ha anche pochissimi usi per assurdo. Eh, cosa vuoi farne? Uh, c'è davvero anche qua. Forse voi non vedete niente nel video, quindi aspettate, vediamo se... Illumina bene. Grafica, brillante, luce soffusa, mettiamo no. Vediamo se così... Ma mi fa calcare comune. Luce soffusa, sì. Questa, grafica. Massimo, ecco. Hai messo il timer? Sì, 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 sì. Allora, questo lo spacchiamo. Io proprio, se vado avanti da solo mi perdo, si scommetto. Ah, ok, di qua si esce, quindi no, non si va da qua. Ricorre. Per sotto non c'è niente nel buco sotto. Vedo easy, vedo anche la icos e mi fermo. Ah, qua è vicolo, cerco anche qui, quindi rompiamo qua. Speravamo fosse grande, noi. No, fu serio, non l'abbiamo esplorata prima proprio per farlo tutto nel video. Che fake. Dai, ma non può essere che non ci sia niente. Vabbè, scagliamo noi, tra mezzo. Rompiamo. Sento un rumore strano, non so che se è un Enderman. No, stavo uccidendo un ragno. No, si è un po' gru, tipo, ma non è la zombie. Uno zombie mi ha dato una patata. Bene, 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 bene. Viva le patate, ragazzi, viva le patate. Bene, 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 bene. La patata va sempre bene. Dove si è? Oh, 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 levati, levati, levati. Lo picchio, lo picchio. Dove siete? Ragno, ragno, maiali. Ommeno, zombie, ragni, maiali. Di tutto. Ok. Eh, anche l'Enderman Creeper, vabbè, ciao, raga. Dov'è Easy? Dov'è Lycos? Aiutatemi. Vedo Lycos, scappa Lycos. Corri. Lycos, devi correre. Ma sai cos'è nel Lycos? Si, 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 ho avuto un attimo di lag. Perfetto. Corre, 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 corre. Salta, salta. Ciotto non ci fa da nessuna parte. Mi stavo di no. Allora, qua vedo zombie a volontà. No, uno l'ho visto, non è vero. Uno, quello chi è? E' Easy. Aiutiamo Easy. C'è zero aiuto. Comunque. Chiediamo la porta. Dormiamo? Si, si, si. Ok. Perfetto. Belli svegli. Dove ho metto i minerali? Dove li metto? Su questa cesta qua. Ok. Quindi ferro. Poi. Poi siamo gli alberelli. Non ci servono. Questi neanche. Ci serve la cesta di cibo. Per il cibo. Eh, prova a vedere dove ho messo tutti quanti i drop. Ok. Allora. Oh, il grano qua è pronto il grano. Tu quasi tutto? No, alcuni sì. Io intanto pianto altri semi qua. Io vengo a fare a crepe. Vengo a fare a crepe. Ok. Ecco qua pure. Boh. Dov'è? Hai una freccia nel tallone. Eh, ho visto, ho visto, ho visto. Allora, andiamo a prendere un po' di legna di qua. Ah, ragazzi, abbiamo deciso che qua si fa la casa, se riesco a salire. Ecco. Infatti qua è la pion degli alberi. Oh, cazzo, creeper. Vieni qua, vieni qua. Vieni. Andiamo ad esplodere, creeper. Ho trovato, trovato, trovato una caverna, se vuoi, qua. Dove, 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 dove? Girati. Arrivo, arrivo, arrivo. Ecco, ti, ecco, ti. Aia. Ok, un po' di semi. Che bomba sotto, cavolo. Oh, funghi. Facciamo la zuppa. Yeee. Wow, quanto ferro. Gigi. Molto bene. Qua è buio, quindi mettiamo una bella torcia. Sì, cazzo. Gigi, prendi torcia. Zombie. Avessi capito dove siete. Oh mio Dio. Morite tutti, morite tutti, morite, 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 moriteci tutti male. Aia, aia, aia. Ok. Vado a casa e faccio torcia io. Mi è esploso un creeper in faccia. Mi è esplosito un creeper in faccia. Altro ferro. Boh. Io prendo un po' di coal. Allora, io adesso devo raggiungere la scurgenza dove c'è Antoho. Ti faccio una scala? No, sto facendola già. Madonna. Ehm, illumina che così vedo certissimo minerale. Ehm. Dove ti metto la luce, qua? Eh, proprio... Lei finisce la miniera? Ehm, mi sapevo di no. C'è anche un creeper. No, creeper vai via, creeper vai. Vai via, 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 via. Vai via, no, no, no! Ma sei inutile. Non morire, non morire, non morire. Ha fatto un solo buco il creeper. Wow. E li avranno, li avranno del potenziale. Sì, ha fatto un buco a terra e basso, fine. Allora, qua è tutto buio, mi manco io niente, quindi finiamoci nel video, cosa vedranno. Allora, qua c'è un sacco di ferro, però, eh. Bene, bene, allora dobbiamo ricordarcelo e far ripassarlo per bene. Chi c'è là? Chi c'è là? Chi c'è là? Chi c'è là? Rompe sto blocco qua di merda. Ma dove siete? Sì, sì, quando vieni verso di noi, porta un po' di casa, perché tipo, io sto venendo verso di voi. Il problema è che non ho capito dove siete. Oh, ok. Ok. Pi pistollo. Ok, one shot. Eh, cibo, 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 cibo. Cinque mele. Quattro polli. Dai, dai. Sento zombie, ma non so dove sono. Esci dalla casa che ti faccio vedere. Un secondo. Ok. Qua, girati, girati, girati. Ok, ti ho visto, ti ho visto. C'è un buco. Molto bene. Qua c'è la torcia. Ok, Lycos, stai qua. Vieni, Lycos, vieni qua. Qua c'è un sacco di ferro. Metti una torcia qua, che c'è del ferro anche qui. Eh, l'ultima torcia. Boh, finita. Ah, eh. Eh, io... Beh, qua. Io ora vedo un po' di ferro qua sotto. Dove sono tutti i cazzo i zombie? Li sento, ma non li vedo. Qui, anche io. Qualcuno ha cibo? Eh, io devo guardare. Sì. Oh, qua c'è un botto di ferro. Grazie mille. Io passo in giro a illuminare, intanto. Sì, sì. Ok, molto bene. Rompiamo qua. Antonio, per qua in fondo non c'è più niente, eh. Finito? Finito. Ma che schifo di me li stanno, è 1.8. Sì, veramente... No, ma ho visto. Cioè, sono andato in giro in creative nel mio mondo. Cioè, cazzo, sono beccato di quelle miniere bellissime. Delle cose stupende. E abbiamo detto, no, il bioma, sfiga. E questo seed qui che è... E il seed sfiga, ecco. Madonna. Per me andiamo a scavare qua sotto e vi trovo... Ferro! Caso, proprio! No, tu... Mi metto proprio... Che cura. Rompo qui a caso, faccio due blocche a terra e vi trovo ferro. boh qua non ci sta nient'altro bene io direi anche che abbiamo fatto quasi 15 minuti 12 minuti mi sa se ok quindi torniamo un attimo a casa e poi finiamo l'episodio qua avevo visto qua una miera ok qua c'è carbone ce lo fottiamo ma prima mangio lava quindi diamante no no ci vorrebbe un bel bucket adesso è anche uno scheletto quello non lo vogliamo qua la minera continua ma è se vuoi e anche verso dove Antonio continua parecchio dai 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 è che è un po' alta questa miniera è il modo più veloce per eliminare i creeper e farli esplodere ok preso il call vediamo anche i funghi se c'è la zuppe la zuppe di funghi buonissima oddio mio guarda qua dove sei? eh viene a vedere cosa ho trovato proprio finiamo finiamo in bellezza il video ti vengo a prendere non mi direi diamante non mi direi no 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 guarda guarda cosa c'è qua oh mio Dio cosa è successo? qui sotto c'è di sicuro un diamante ma più di uno secondo me c'è oro? oro? si e adesso ce lo andiamo a prendere oro, redstone, ferro, rapisa d'azzoli mamma mia mi faccio un ponte aspetta mi faccio un ponte vai sei troppo un cane di lava di lava oh oh frecce frecce aia madonna lì sotto le frecce ah, schereto zombie ma hai detto io ho trovato la lava però non l'ho trovato altro ma che posto è questo? io non ho le torce però cazzo piccolo cielo qua dai finiamola qua finiamola qua e la prossima volta magari facciamo un altro video su questa zona qui tanto noi non lo esploriamo no no fermiamo qui allora facciamo così stacchiamo e li prendiamo subito così facciamo due video ok bene ragazzi al prossimo video ciao 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 eh io devo ciao ciao ciao